La mia vita è tutta un 10. Sono nato le 10 e 10. A 10 mesi pesavo già 10 kg. Abitavo al 10. Ero proprio un bambino tranquillo. Se io potrei, se tu potrei. A scuola prendiamo sempre 10. Lei mi ha scelto tra altri 10. E ho pure imparato a contare fino a 10. Chi sceglie Vodafone si merita un 10. 10 auto ricarica, 10 centesimi verso tutti per chiamate SMS. E in più ti ricarica 5 euro ogni 10 euro di telefonate. Ah, il 10 conviene sempre, eh? Vodafone